È una situazione inaccettabile, è una situazione dalla quale emerge che lo Stato ha rinunciato a controllare una parte del proprio territorio, è al di fuori della legalità di questo territorio. Io credo che in un paese civile una cosa di potenzione non possa essere accettata. Credo che si debba chiedere in modo assolutamente rigoroso un intervento delle forze dell'Odino, dell'Esercito per eliminare questa situazione e poi ricominciare a parlare di maggiore competenza dei sindaci in materia di ordine pubblico. Non si può prescindere sui sindaci perché meglio conoscono e meglio possono sottolineare sui territori. E oltretutto questa sarebbe una zona protetta in quanto Parco Grane e non solo. È una zona che fa investire, è una zona che dovrebbe essere a disposizione del cittadino per venire a passeggiare, per fare delle belle giornate. Vedete un po' più in là, grazie. Grazie. Da far away.